Il Lazio in questo anno e mezzo è stato all'avanguardia per l'applicazione e la realizzazione della Spendia Review. In un anno abbiamo tagliato 400 milioni e programmato 500 milioni di euro l'anno, chiudendo società, cancellando poltrone, razionalizzando la spesa, facendo centrale unica degli acquisti e con orgoglio primi in Italia a fare la fatturazione elettronica. E continueremo. Abbiamo in programma nuove, che presenteremo presso al Consiglio regionale, nuovi provvedimenti per semplificare ancora il sistema delle società, cancellare consigli di amministrazione, semplificare la macchina burocratica. Quindi noi siamo all'avanguardia della Spendia Review perché, ripeto, abbiamo prodotto già nel luglio dell'anno scorso, e quindi nel 2013 l'avvio di un processo. Quindi non a caso, e lo ringrazierò sempre, il commissario Cottarelli alcuni mesi fa, venne in Regione Lazio proprio per avere un confronto sulle cose possibili da fare. Sarebbe importante, quando si annunciano obiettivi, anche individuare gli strumenti per realizzarli. Ad esempio, individuare, se ci si dà degli obiettivi, degli strumenti preferenziali per raggiungerli. A volte chiudere una società a norme attuali del delitto societario ci si impiega 7, 8, 9 mesi. Il governo dovrebbe pensare anche, dati degli obiettivi, a facilitare con provvedimenti straordinari l'agevolazione per raggiungerli questi obiettivi. Questo ho avuto modo di dirlo in queste settimane anche ad alcuni incontri che abbiamo avuto un po' a tutti i livelli.